ok luciano inizio il video ok allora l'ho già iniziato ciao ragazzi ho fatto scherzo a luciano già da un po' di minuti l'avevo iniziato passi da un po' di secondi e Dory sta giocando e Dory vuole uscire fuori perché ha visto un ape allora ragazzi oggi siamo su oggi siamo sul doors bath bed infatti l'altra volta abbiamo giocato a quello bello oggi siamo su quello bath bed guarda qua le piante sono guarda le piante sono dei quadrati oggi siamo su do oggi siamo su doors perché tizia 0099 lo vuole dare sculacciato aspettate luciano tu devi fare il bravo è morto bene oggi siamo su ok oggi siamo su perofobia per fare il livello 100 ok venite dai venite 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 qua ok andiamo da troppo ok andiamo da troppo andiamo da troppo eee nooo gasta 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 guarda qua questa non era una intro guarda il video devo un attimo picchiare caftor va bene va bene papà come è caftor dobbiamo uscire e dobbiamo uscire perchè caftor ha ristretto il mese eee eee non entra ragazzi questo video è bellissimo si pressione il button ok ragazzi avete sentito un urno di luciano ragazzi volete vedere la vera faccia di luciano nooo basta oppure la vera faccia di caftor la vera faccia e la vera voce di caftor che faccia cia 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 ok mi prendo le vitamine per la to- le pillole per la to- le pillole per la to- le pillole per la tosse eeeh ragazzi queste mi servono non so più rauco però mi servono ehm apro io la porta io sono quello del canale eeeh quando la mia faccia una venice giustamente i cassetti sono tutti i miei i cassetti sono tutti i miei fuori cosa da- i cassetti i cassetti ma la matone avvisatemi quando c'è il rush ragazzi c'è perchè qua in busca non siamo mai riusciti a vedere quello back bed si se neanche abbiamo iniziato il gioco, ecco qua dovrebbe esserci un sicco in quel bug oh per quanto cazzo lui voglia derubarmi tutto, io ho 100 decimoni e vabbè che ce ne fregano bella brawl voglio una fanart per me tutta la sala ora ragazzi comunque dovreste fare delle fanart, fate delle fanart e fate un video nel vostro canale con l'hashtag fanart per Anto cari Antonino e poi vedete se ne aspettate è vero? e lei infatti aspettate di sopra così mi lasciate chiaccia caccia, basta, ecco la mia faccia ma non hai una faccia su roblox si odia quella cosa, si magari è nudo magari sotto la faccia è nudo magari sotto la faccia è nudo ma non dovrebbe essere ilформato d'arrivare pììììì pìì pìììì pììììììù pììììì pìììì è pìììì è adesso devo riproporrere ho le pillole per la sozza apri vabbè vabbè, tanto io le pillole per la sozza che l'ho visto quel cavolo di scritch come quello dei quadri no ok prendo il quadro ciao non lo so mi piace portarla in mezzo uguale ai spi giochi egli e gabbi un giorno hanno fatto un video su un gioco VR no il quadro no l'ho preso qua non ce l'ho preso il mio quadro se trovate delle pedie per favore datele a me no datele a me io ho tutta la vita dovete darmela a me odia... odiatele cia cia ma come che sei? non lo so io cia cia aspettatevi se trovate delle pedie ci sono eh cazzo 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 è vivo ci vedi un... cap? hantro un ok non capito neanche sei hantro hantro tanto è un infame ma come no che ho fatto ma che ho fatto in tutto scaftola madonna i corsi cari però dove sei? ti chiedo che non puoi esprimere ma che ti chiede? ce la lascio cazzo c'erano 30 armadi cioè prendete questo ovviamente non voglio cioè ovviamente non stiamo litigando cazzo è uno dei miei amici belli quindi ragazzi però comunque iscrivetevi al canale che sto vedendo che però non si stanno più iscrivendo persone io però io sto mettendo che bello iscrivetevi iscrivetevi sono sicuro che ho un'idea se vi iscrivete aspetta se vi iscrivete Luciano farà un'acrobazia non è bello si la vuoi fare tu tu sei esperto vieni vieni ascia 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 vieni ce l'ho fatta ok ce l'ho fatta vieni vieni ok andiamo dov'è ok ma ora lo riesco a schivare grazie ma cazzo è e andiamo ecco 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 sei tu ecco ecce esco ecco ma mi l'ho guardato giusto in tempo caftore è morto cazzo ora hai una vita in più vabbè di nuovo vabbè di nuovo mamma mia quante volte scriccio tre volte mi ha parto e l'ho schivato ma come? ma dai vorremmo iniziare però i nostri non lo so perché i nostri siti adoro un cazzo vorrebbero iscriversi perché è molto inglese dicire cazzo riprendiamo ok ma dopo si che è un fratello che è un ufficio non lo so perché è un ufficio non lo so perché è un ufficio nooo dai ce l'avevo così fatto la classe prima di ok sono delle medie però non è che devo arrivare riniziamo pure a me pure a me cosa da me quando deve quando deve morire luciano non c'è mai nessuno ok ragazzi ora ci risiamo andiamo il tavolo il tavolo non è vero luciano luciano chi sei? mi senti? ok e ora tu hai detto che sei sb... e ora tu hai detto che sei sb... come l'hai detto? mi sa che Antonio sb... piglio le pellatutze forse ho speso tutti i miei soldi ho speso 30 euro beh io ho speso... io ho speso per tranquillo le pellatutze oggi si è stati... si ragazzi ma guarda Castor come... Castor! Castor aspettati! non l'ho visto! non l'ho visto quindi non mi ha fatto danno ragazzi se per chi non avesse capito ma credo che tutti abbiamo capito nella scorsa copertina c'ero io che mi mangiavo le pillole per la tua... eh beh beh è un po' di fine ma come? ma perchè io avevo le pillole per la tua... ma che hai detto che è il pillole per la tua... ma che hai detto il pillole per la tua? ma l'acetino per Castor? no lo prendo io Castor? Castor dove? ah... timoti timoti ma... va bene ma la riuscire va bene ma la riuscire va bene ma la riuscire ma come si... ma come si fa ad evitare timoti? va bene ma la riuscire no andata dai castor andata avanti senza di noi Sì, non c'è un annaio E dai E però Castoro, va avanti in centro di noi E dai, ma dove non inizia? E dai, però Sì, e ma non posso neanche comprare le mie pillole per la tosse Per colpa di Gartor, che non è abbastanza solo 79 E dai, però Ok, ragazzi Che è? Ok, allora, mettiamo in cadenza, adesso, già, perché questo è un po' che ci sono, ma sei, a parte da ora, e questo è un po' che si è coraggio, sono stato saluto, sono 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 saluto, mi divertono, mi divertono, mi ritrovo di caso, ragazzi, dovevo iniziare, e dovete raccogliare, grazie, e poi passate, ma non è, non è, non è, non è, non è, emma non posso c'è un cennino ando io oh ok c'è il nostro cazzo no è qua cazzo poeni cazzo poeni e però poi la la strega gli da gli da una mela che poi biancaneve mangia avvelenata aspetta poi però la strega però poi la strega da biancaneve una mela avvelenata che la strega la strega la strega la strega la strega la strega visible la strega le creiamo la strega è la strega Dando che è una vela belenata che Bianca ne lo mangia Bianca neanche inizia a cellulare No, non lo fa e muore Lei e i tassi amari Però ho quattro E ho il tassi amari Oh Oh eh che è ragazzi all'olta ma hai visto il video? si l'ho messo già l'apri in questo video ti ha 40 volte io ti ho detto ti hai detto come si evita timoti? come non si è? beh beh per questo io non apro mai i cassetti ho la chiave mamma io pensavo che era rush un bagnetto piccolino e rush un po poi rush cos'è alla fine oppure un troll bellissimo è uguale ho uguale la risata di troll face queste poi l'ho fatto uguale non 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 ma ci sono diversi tini non 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 l'ho visto non l'ho visto ho messo non vivo questo è il mio l'abbiamo fatto tipo tre giorni fa l'abbiamo fatto tipo tre giorni fa ogni volta sento il filo lo smettiamo a questo rimediamo subito ok ora vabbè ora è un video che si rispeccia non è vero io sono quello del canale il canale ormai è diventato ragazzi iscrivetevi e mettete like se volete bene a Luciano e a me poi se non lo volete bene a Luciano ma volete bene a me scrivete un commento no no ma che che qua è solo dentro guarda che è una torta aspetta 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 prendere la mia canolina può? si si può buongiorno 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 si un attimo buongiorno buongiorno l'ha fatto cacca non buongiorno 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 preparato non ho capito ma è così preparato dell'essere impreparato adesso è così impreparato potete andiamo io stai sento pseudo dal tuo computer penso che sia il mio oggi Luciano ha detto finiremo dopo ma io credo finiremo ho paura non li apri i cassetti ho paura di Dino prendiamo il quadro scappiamo si ecco si tanto ma non servono più guardi sic sicco sicco no no cacca no sono pensavo fosse rassi mi se la pioggia pensavo fosse rassi mi se la pioggia Grazie a tutti No, è sperato in poco E dai però E però avevo poca vita E cazzo però Non avevo bastanti soldi Non potevo comprare le mie pillole E' durato 30 minuti il video Ok facciamo una cosa Ti aspetta metti in pausa un attimo Ok ragazzi ci vediamo al prossimo video Saluta Lucia Saluta Ok cazzo No parlare se no te scoprono Dove ragù Ciao